Il serbatoio dov'è? Dietro davanti questo? Il serbatoio sulle ali? Sulle ali? Lì non c'è. Questa è un pezzo di ala. L'altra ala è dall'altra parte. L'altra ala sa di ala? Nell'altro campo. E ma... L'aereo Unpilatus PC6 è stato rimosso dal campo in cui era precipitato e messo sotto sequestro in un hangar dell'aeroporto del Migliaro, da cui era partito ieri mattina alle 9.30 circa. A bordo c'erano diversi paracadutisti dello Sky Team per quella che doveva essere una domenica all'insegna dei lanci e che si è invece trasformata in tragedia quando, tra l'ultimo paracadutista che si è lanciato con una tuta alare, Alessandro Tovazzi di 41 anni di Arco di Trento, e l'aereo pilotato da Stefano Grisenti, 54 anni di San Secondo Parmense, si sarebbe verificato un impatto fatale che non ha lasciato scampo a entrambi. Nel frattempo prosegue l'inchiesta avviata da parte dell'ANSV, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo e anche il sostituto procuratore Vitina Pinto, titolare delle indagini sull'incidente aereo. Ieri si è recata all'aeroporto del Migliaro e sul luogo della tragedia, il campo di mais dell'azienda Quaini di Livrasco, nel comune di Castelverde, a pochi chilometri da Cremona, mentre paracadutista e ala dell'aereo sono precipitati in un altro campo della stessa azienda. Ho soltanto visto il fumo e basta, stavo lavorando, quindi siamo corsi qui subito. I testimoni hanno detto di aver visto... ...gli ultimi 50 metri della caduta dell'aereo. L'aereo abbiamo visto tre avvitamenti con l'ala spezzata, dopo l'aereo è caduto con una piccola esplosione, con l'incendio, e a sinistra abbiamo visto scendere un paracadute, e in un secondo tempo è scesa il pezzo d'ala rovinata. E speravamo che il pilota, almeno il paracadutista che era rimasto, fosse salvato, invece purtroppo sono deceduti tutti e due. Abbiamo trovato il casco in questo campo, completamente aperto, rotto, e il paracadutista nel campo d'erba. È arrivato l'elix corso ma era lesione gravissima, proprio... Grande il dolore dello Sky Team. Abbiamo perso due persone, due persone che volavano con noi, che condividevano questa passione, questo sport, e quindi credo che oggi le parole non ci siano. Specialmente il pilota, una persona con cui ho condiviso personalmente almeno gli ultimi 20-25 anni della mia vita. Nel nostro sport i conti purtroppo arrivano e sono molto salati quando arrivano. E profondo il cordoglio dell'aeroclub a Migliaro. Una giornata molto triste, in un anno molto triste fra l'altro. Cercheremo di affrontare anche questo problema. Tutti i problemi si risolvono, non si risolve la perdita di due giovani persone appassionate di questo mondo, di questo sport.